Come prima categoria io ho messo la cover specchio close up. Allora, stranamente, ho chiamato cover specchio delle cover dove non succede quello che succede davanti a uno specchio. Cioè se voi guardate lo specchio, quasi sempre vi guardate negli occhi. In realtà la cover specchio si riconosce perché la protagonista del romance con cui si identifica la lettrice non guarda il lettore, non guarda in camera. Ok, ce ne sono di tanti tipi. Questo è il primo tipo, il close up. Cosa vuol dire? Che il soggetto viene rappresentato al massimo fino a sotto lo sterno. Come si vede in questo di Loren Head, o qua, questo cover di John Paul. Questo avvicinarsi tanto della camera al soggetto ci dice che il soggetto viene visto da vicino, cioè che la chiave del racconto è l'intimità. Come vedete anche qua, anche in una chiave più simbolica, come questa più lineare, eccetera, anche in questo caso dove c'è un semplice cameo si può parlare di close up perché il focus è la testa nel capo, quindi nell'anima della persona. Ok, quindi se avete una storia dove la chiave espressiva sta nell'intimità, nel dialogo interiore, ma anche dove appunto si parla di sentimenti sottili, questa è la cover giusta. La chiave è intimistica. Ci possono essere, come poi vedete qua, anche degli altri soggetti, cioè la cover specchio non richiede che ci sia per forza solo lei. Ci può essere anche un soggetto maschile e il soggetto maschile può guardare il lettore. In questo caso non succede, ma potrebbe anche esserci. L'importante è che non guardi il lettore lei, la protagonista femminile. Ok. Ok. Ok.